Potenziare i servizi del Sant'Anna avviando un percorso con la Regione che porti, entro due anni, a trasformare l'ospedale di Sanfermo in un cosiddetto DEA di secondo livello, un Dipartimento di Emergenza e Urgenza che assicuri, oltre alle prestazioni attuali, anche quelle di più alta specializzazione. Presentazione con l'annuncio di un obiettivo ambizioso per il neodirettore generale della SST Lariana, Fabio Banfi, che oggi ha presentato il programma per l'avvio del suo mandato alla guida di un'azienda che assicura la metà dell'offerta della rete sanitaria del territorio ed è un importante fattore di coesione sociale del distretto lariano. Gli accessi al pronto soccorso sono per il Sant'Anna costantemente al di sopra dei numeri standard e il passaggio al secondo livello consentirebbe un importante salto di qualità. Abbiamo un spettro d'offerta che ormai non è più quello di un ospedale generalista e a cui manca veramente poco in termini di qualificazione per raggiungere questa meta che è una meta che noi cercheremo di definire nel dettaglio, di programmare e di poter presentare con molta serenità e tranquillità all'attenzione di Regione Lombardia perché questo risultato sia un risultato per tutto il distretto lariano. L'idea di secondo livello vuol dire aumentare la potenzialità dell'offerta in regime di emergenza-urgenza. Attenzione anche al comparto chirurgico che sarà riorganizzato per il blocco operatorio. Confermato il ricorso agli infermieri di una cooperativa esterna, l'accordo in scadenza a fine 2018 è stato rinnovato. I risultati sono stati positivi, abbiamo incrementato il numero di interventi e anche gli aspetti organizzativi sono migliorati, sottolinea Banfi. L'obiettivo resta poter stabilizzare le figure necessarie, ma nel frattempo la soluzione degli infermieri esterni garantisce i risultati che vogliamo ottenere ed è quindi stata confermata per i presidi territoriali. Il neo numero uno dell'azienda di Via Ravona conferma l'attenzione sul Sant'Antonio Abate di Cantù con l'attivazione del nuovo comparto operatorio entro l'autunno prossimo e la riqualificazione complessiva del presidio di Mariano Comense. Una nota finale sulla collaborazione con i rappresentanti sindacali. Ci sono le condizioni per lavorare insieme al meglio, conclude Banfi, e per trovare la convergenza e chiudere l'avvertenza in atto.